Salve a tutti ragazzi, qui TTD, ben ritrovati sul mio canale, siamo qua su Dragon Ball Z Dokkan Battle Versione JAP per andare a provare la nuova LR Opening di Kai Goku Allora, ce l'abbiamo subito in turno, andiamo a gustarcela fin da subito e vediamo un pochino Ecco la intro Carina Lost Oh, ora Goku Eccolo qua, va bene Allora ragazzi, ho preparato un Turtle School Tanto per ridere un pochino, Turtle School 200% Mi interessava vedere un full team di Goku come performa, molto semplice Detto questo, per i primi 6 turni ora avremo la guardia e tutte le cose belle, eccetera Interessante, noi ci prendiamo un po' di colpi, speriamo di non uccidere troppo facilmente E via Vediamo un pochino come performa ragazzi, un attimo i primi turni devono passare che Mi fate tirare un po' di roba Sta special intanto tanta roba Ok? A Dino no, peccato, vabbè Ok, boom, perfetto Difesa in più ragazzi Ok, al prossimo turno la vediamo già full boostata Let's go Full boostata Meglio specificare Meglio specificare Non è che la vediamo full boostata È che semplicemente ha preso già I 5 colpi Quindi def 59 Ok? Giusto un attimo da dire quello Vabbè, che ogni 18 comunque che tira c'è il raises def all'infinito, eh? Giusto un attimo da dire Vediamo un attimino Cosa fa? Cosa fa? Diciamo che però in un turno io l'ho già attivata La parte di passiva che mi interessava l'ho già attivata Va bene, allora Qua invece è un po' diverso Oh mio Dio santo La morte là Devo tenerlo in mezzo per non morire 311.000 def di partenza No, non lo teniamo prima e basta Spero che quel Goku riesca a non fare kaboom Sì, cioè Sono in una Turtle school Cioè Non è che poi effettivamente il team che ti puoi creare è molto diverso da questo È Tutti Goku Fine Ok, due colpi Altri tre colpi Abbiamo boostato anche lui in difesa Dopo dobbiamo arrivare comunque a nove colpi per avere la addition al 120% attack Siamo già a 5 con l'altro Quindi quattro colpi ancora E via Questo non ha ancora la def attiva in più Vabbè Ricordatevi sempre Ogni 18 che tiriamo Comunque a un raises death Quindi a prescindere arriverà a valori difensivi giganti Io ho paurissima per questo Perché non sta linkando Lo so Lo so Ho fatto una cavolata lì Però Non credo neanche che Cioè Serva qualcosa in sto team Cioè Sono del tutto sincero Ok Non prendere la special Grazie Grazie mille Ok Vediamo la difesa ora Di questo Goku Carnival Molto incavolato 745.000 def al turno 2 Ok Andiamo avanti Continiamo Continiamo È tutto normale È tutto normale Va bene 6 6 colpi questo O ne aveva preso un altro Vabbè 6 o 7 Amen A prescindere comunque a breve Lo vediamo incavolatissimo A breve lo vediamo incavolatissimo Tranquillo Va bene che comunque A prescindere Si sta abbaffando sempre il Il crit Sta abbaffando Ogni colpo È 9% al crit Giusto un attimo da Tenere in considerazione Quella roba lì Comunque ha preso gli altri colpi Ok Buono Grazie Grazie mille Che abbiamo Godku qua Broly Broly Ti voglio bene Non mi rompere Gli zebedei Grazie Questo Goku Invece ha 400.000 Perché ancora Non ha ricevuto Il colpo Per attivare La def in più Giusto un attimo Tenerlo da nota Ora In realtà Noi Potremmo iniziare A tenerlo secondo Tranquillamente Giusto un attimo Da dire Fatemi fare questo Ecco Ragazzi Tank Appena gli arriva Appena gli arriva Il colpo Della def Che è il primo colpo Tanca C'ha 700.000 def in su Fatemi un attimo Mettere quello a Godku Perché poverino Ok Eccolo lì Bom Def attiva 7 milioni A breve nell'altra Vedremo invece Il 120% attacco Dopo che ha ricevuto 9 colpi Perfetto così Eh l'unica cosa è Boh Questa è l'arr E li voglio vedere Tirare tanti add Solo quello mi interessa In realtà Devo essere sincero con voi E' solo quello che me ne frega E' forse Boh Sì E' l'unica cosa che mi va a interessare E' quella Perché C'ha 59% crit 60 Ok Chi se ne frega Diciamo 60% crit Ha senso dargli solamente Da quel lato Ha senso dargli solamente Il L'add Ok Add e basta Sto roba è add e basta Deve tirarvi le 12 Sono importanti le 12 No non servono a niente Tanto Vabbè E' solo per avere più danno Fine Quello Ah è vero È vero È vero È vero Stavo guardando Ma questo Questa è di evadere Le key base super Non la può attivare Da brolly Il counter Peccato Va bene Allora si prende Altri due colpi Lì 900.000 death Quindi mi state letteralmente Dicendo che sia Goku Che Kid Gohan Sono letteralmente Top 1 del gioco Tutto e due Oh 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 He's cooking 16 milioni Let's go Ha preso Ha preso il 120% attacco Uh uh Kaboom E ora abbiamo la Genki E non abbiamo più La guardia Vero Non abbiamo più la guardia Qui Vero Giusto un attimo Sia tu No tu non sei ancora attivo Io lo posso tenere primo Tranquillamente qui Quanto è 792.000 death Un attimino Cambio qualcosa No perché non ha Più link in più Ok Genki waketicure Questa è brutta Devo essere sincero Questa active skill È bruttina Molto bruttina Non c'è poco da fare È un po' bruttina La Genki così Solo per quello Vabbè Ok Teniamolo prima Prendere gli ultimi boost Perché noi vogliamo vedere 120% attacco Let's go È no sense Letteralmente no sense Questa LR Letteralmente no sense Anche Gon 120% boost All'attacco 16 milioni Anche lui Ok Sì Ok Mi è bastato un attimo Fare questi due showcase Alla veloce 10 milioni Dalla 12 Gon è top 2 E Goku è top 1 Fine È molto semplice Sono delle carte Da Della madonna Della madonna Fine Yes Yes Io potrei anche finire Qua lo showcase Ma va bene Comunque noi continuiamo Dopo tiriamo la Genki Con l'altro Ci divertiamo Ancora un altro turno Yes Sensate No assolutamente no Però sono fighe Tutte e due Voglio più Gohan Ragazzi Goku sarà fortissimo Quanto volete Però Gohan Nostalgia Nostalgia Lo voglio Fine Non me ne frega niente Non me ne frega niente Che non è il migliore Non mi interessa assolutamente Un guy È che lo voglio A me piace Quel Kid Gohan Mi piace troppo Genki Andiamo Seconda No sense Ragazzi Noi ci vediamo Probabilmente Appena finiamo questo video Ci vediamo Fra un pochino Per un terzo video oggi Questo ha comunque la guardia Quindi lo teniamo prima E via Ci vediamo per un terzo video oggi Perché andiamo a provare La LR Free to play Più forte del gioco Ovviamente si parla di LR piccolo int torneo Tanta roba Ah special Non me ne frega un cazzo Te lo dico proprio come Non me ne frega assolutamente niente Guardia attiva ancora È tutto No Non c'era più la guardia Cavolata Ho detto una cavolata Se l'è tancata Comunque molto bene Direi Se l'è tancata Bene Direi Signori Dai Su Se l'è tancata Veramente bene Poco da fare Mamma mia Ha preso 400.000 No item Senza Senza guardia Senza niente Se l'è tancata bene Sapete perché ha preso quel danno Perché era comunque 900.000 Def Quel cavolo che era Yes Ragazzi È stato un piacere Grazie mille per aver visto il video Lasciate un bel like Commentate Se siete nuovi sul canale Considerate l'iscrizione Tecretta per favore Che se no Bravo Noi ci vediamo Al prossimo video Ciao a tutti